Mille imprese che chiudono al giorno nel 2012, una cifra impressionante. Tutti dicono di volersi occupare della crisi delle imprese e del mondo del lavoro, ma da che parte si comincia? Si comincia da una scelta implicita che deve diventare esplicita. Le aziende che chiudono sono tutte quelle che sono legate al mercato interno, alla spesa delle famiglie, all'acquisto di beni. E qui le chiudono perché oggi la ricchezza delle famiglie è diminuita, la propensione alla spesa è diminuita, i consumi sono diminuiti, l'artigiano o il commerciante, magari più il commerciante che l'artigiano, che vivevano di questo mercato domestico, alla fine chiudono. Chi resta o chi addirittura funziona meglio? Coloro che non fanno mercato domestico, cioè che non vivono solo sul mercato domestico. Vivono le aziende che fra il 40 e l'80% della produzione esportano. Vivono le aziende che fanno anche produzione all'estero e non solo esportazione. Questa è la realtà italiana. Se uno poi viene a Bergamo capisce che Bergamo ha scelto la seconda strada, non la prima. ha scelto di fare il lavoro verso l'estero, di vivere la dimensione di internazionalizzazione e di vivere in una maniera, questo è l'aspetto più interessante della realtà bergamasca, di vivere in termini medio-alti. Non c'è questo gusto della griff altissima a Maserati o le scarpe Tos. Qui c'è un prodotto di qualità medio-alto, dappertutto, nei servizi come nei prodotti industriali e addirittura nella struttura del lavoro.